Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin 365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin 365.news. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcast. Le uscite di questo venerdì, vabbè che è la vigilia di Natale, però sono talmente debilitanti che mi sono detto, lasciamo sta il presente e andiamo direttamente al futuro. Il futuro, gennaio, porta un solo nome, che sono due parole, Noiz Narcos. L'avete visto il documentario? Se non l'avete visto andatelo immediatamente a recuperare. Perché ragazzi, Noiz Narcos è culto, Noiz Narcos è religione, Noiz Narcos è un genere a sé. Nel documentario abbiamo tutta la sua storia, a partire dai Truce Boys, che erano Gel, Metal Carter, Cole, che hanno creato questo movimento e poi è diventato Truce Clan. E la loro forza era che proprio erano diversi, erano scorretti, erano di un'altra mentalità. E Noiz Narcos è entrato appieno proprio nel collettivo, perché solo per il suo modo di essere si sposava perfettamente con quel mood, no? E poi è diventato il membro di spicco. Noiz Narcos oggi resta Truce Clan, anche se il Truce Clan non c'è più. L'ultimo disco, Enemy, è un disco particolare che magari non è stato troppo apprezzato da chi Noiz lo ama, diciamo, da prima, da sempre. Però è stato forse uno dei dischi di maggiore successo, per una questione proprio di tempi in cui è uscito. Perché magari sì, i dischi precedenti erano culto, però a livello di stream, di vendite, oggi è tutto cambiato. Quindi effettivamente magari è l'album meno conosciuto, meno amato dal suo pubblico di Noiz Narcos, ma è quello che ha avuto risultati più grandi. È stato un successo sotto tutta la linea. Ecco, anche se ovviamente, insomma, noi non ci dimentichiamo quello che è stato e che resterà nella storia. Perché ragazzi, da questo documentario riemergere, è stato bellissimo reinserirsi in quel concept, vederlo lui sempre così se stesso, così Noiz Narcos. E mi ricordo quando uscì The Best Out Vol. 2, io c'avevo 15 anni, e 15 anni che cazzo te lo dà al fumo buono. Mi fumavo sto fumo buonetto, mettiamola così, però, insomma, benino. Però comunque facevo il suo sbafo, e mi ricordo che mi ascoltavo The Best Out in cuffia, mentre stavo dentro al bagno di un lido, in uno chalet, in piena spiaggia. E mi fumavo sto cannone, e tutto riemergeva. Era Truce Clan. Cioè, mi sentivo parte del Truce Clan in quel momento. Questo per far capire cosa vuol dire essere e vivere il Truce Clan, per chi l'ha vissuto, l'ha sentito ai tempi. Per non parlare dei live, io sono andato a senti Noiz qualche anno fa, prima del Covid. Comunque spacca, comunque dà tutto, e il Noiz dà tutto anche nelle piazze piccole. Cioè, stava spaccando tutto anche a Mociano. Ma quello che era ai tempi del Clan, che salivano insieme, tutti quanti, anche Cordiuk Montana, che, insomma, faceva parte comunque del collettivo. E, insomma, era un'altra mentalità, raga. Cioè, quando lui dice, la mia volla poca duro, pare una rissa, sì, sì, assolutamente è così. Oggi non è più così, oggi è un po' meno, però ai tempi era un inferno, il ministero dell'inferno. E, insomma, in uscita Virus, nuovo disco, chissà. Io ho grosse aspettative, però onestamente non è vero, non ho grosse aspettative. Me lo godo, perché comunque sarà un disco nuovo di Noiz ed è sempre importante. Aveva detto che aveva smesso, invece non ha smesso. Ci saranno featuring di spessore. Ci saranno sicuramente delle tracce culto. Però non è che io abbia tutto questo, cioè, nel senso Noiz, è stato talmente importante, talmente massiccio, che è una discografia, scusate, mi stavo in palla, pa, 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 pa. Ha fatto una discografia talmente vasta, talmente carica, che c'è sì, mi devo andare ad ascoltare Noiz Narcos. Ho già l'imbarazzo della scelta. Quindi fa piacere il disco nuovo, ce lo cucchiamo, ce lo spulciamo fino al midollo. E mi auguro veramente che avremmo un Noiz 5.0, di un livello sempre superiore, ma che magari, insomma, ci lascia anche qualcosina del suo background, diciamo, no? Anche se da quello che ho visto dagli spoiler è un Noiz molto moderno, molto particolare, molto relativo anche all'età che ha, non lo so, e sono cambiati i tempi, sono cambiati i tempi, quindi onestamente io non lo so, non lo so, è che, non lo so, prima c'era, è come se il palco era quello giusto, e oggi mi sembra un palco sbagliato, però, cioè, Noiz ha questa grande capacità di essere giusto in ogni circostanza, ecco, diciamo che non mi aspetto l'eccellenza, ma ne aspetto un grande disco. Sicuramente un disco che nasce da un'esigenza forte, perché chi glielo fa fare? Lo fa perché sente di volerlo fare. Poi per lui è faticoso partorire un progetto, lo ha sempre detto, negli ultimi anni, ecco, perché prima ne macinava a go-go. Però, capite, è dura per uno come lui, che comunque si è inventato un suo genere, se vogliamo, che si rinnova, ma fino a un certo punto, perché proprio rinnovandosi rischia di perdere quella genuinità. Quindi, cosa mi aspetto da Virus? Non ne ho idea, non resterà che ascoltarlo. In arrivo, 14 gennaio, e su Noiz, voglio dire, cioè, per la mentalità truce clan, cioè, quando Gell, al to the beat, fa la rima, io perché io vado a naso, gli faccio fare la fine del piccolo Tommaso, e la gente si scandalizza, a live del truce clan, quando ha rifatto questa rima, è successo il bordello. Cioè, era quella mentalità, era magari il posto che era sbagliato, o, come ha detto Enzi, dava fastidio che sta gente sarebbe inventata qualcosa di nuovo, e invece di là c'era, arrivo con le rime, lo stilo, e invece loro portavano il disagio, quello vero. Loro sono veramente ciò che di più hip-hop si poteva avere in quegli anni, in un'epoca in cui l'hip-hop stava diventando veramente, ma veramente noioso. Hanno dato uno scossone a quell'ambiente underground, in un momento anche in cui stavano uscendo i vari rapper in major. Eh, ed oggi la major si inchina, perché questi ragazzi, questi personaggi, oggi fanno ancora grandi dischi, fanno ancora grandi numeri, fanno ancora grandi vendite, e comunque hanno un seguito che magari né il pop, né certi giovani possono avere. È l'anno dei big, ha fatto Marra, ha fatto Gue, adesso Noiz, manca solo Fabri Fibra, ma in arrivo anche lui.